musica 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 vorrei sentire una bella differenza linguistica non durante un video ok what the fuck niente facci una domanda datci una risposta proviamo alicea scommetto che alicea mentre aspettava sopra ti puoi su facebook a vedere link no no ma che stai dicendo va bene stai dicendo ma non dire chi sai che ma non dire chi sai che aspetta teleportami la bastardo dove nel coso giallo e va bene vita questa è la seconda volta di fila che c'è di qualcosa giallo e non va bene troppo se sono io in quello rosso aspetta che ci rimane che vado smetti ok ok basta basta vai è caduto pure è caduto pure allora mettiti in quello arancione io ti do una spinta e vai pronto se però aspetta si lo so è che il massaggio arriva dal cervello un pochettino dopo eh 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 pronto muovi la testa a destra a sinistra no era arrivato fatto muovi la testa a destra a sinistra ripetere per te a quattro volte ogni volta che qualcuno ti offre da mangiare no non ho capito no niente le solite perle di cavolo vai 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 le perle di cavolo si perchè i cavoli hanno perle si tele port teleportami la teleportami la così non ci perdiamo il checkpoint teleportati tu che io mi tengo con nello shift così non rischio di cadere a c'è un cliccare terra idiota perchè riporti perchè mi fissi in quel modo cdp aiuto per paura ok oh vai oscar è promettita estremo ok mamma mia mamma mia ok ok e' quasi quasi no vabbè anche quando hanno bastardo la messa sopra un albero quindi neanche da qua si ci puoi trovare te ne so dai aspetta però ora tocca a mano fuck ora tocca a mano leva 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 a te e che c'è la fama e che c'è la fama ma poi ti porti una iella che non ti si immagino no lo so non mi si immagino infatti non mi immagino vai mettiti di fiamma come si fiamma la foca fuck aspetta no dai ho avuto il riflesso andrea perchè c'è da anni ha fatto una paper che non ti immagini ho avuto il riflesso sembrava il messo di un sembrava il messo di un sembrava il messo di un enderman esatto gn 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 oh levati 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 no tipo una spinta no aspetta quanto 3 2 no 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 fermo che cazzo fermo che cazzo fai fai facciamo ogni blocco un checkpoint ho fatto il contrario ora tu mi devi spiegare quando no non ti preoccupare quanto sei idiota da 1 a 400 quanto quanto scrivetelo poi nei commenti scrivetelo poi nei commenti perché nooo big fail nooo idiota 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 potenziati e pagati nello stesso momento ci ho fatto ci ho fatto saresti saresti una carta vincente a julio però vincente per l'avversario esatto dopo dopo tre volte che l'hai fatto di fila come fai a pensare così mettere prima il mio nome che ho fatto dai portami ah no io lo devo fare no prima il tuo nome lo so grazie sì lo so sbaglio di nuovo ti uccide ehm fuck mi intanto ti può mi stanco ti può premere la barraspaziatrice non salto se mi avvio così tranquillo no 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 sbaglia di nuovo uso la game mode io te lo dico risalgo sul blocco con la game mode ah ok dai portati di nuovo facciamo ogni checkpoint iiiihihi ogni blocco un checkpoint me mancano quattro dai levati levati ho levato si che si incammina ho detto ho dimentico che devo saltare levati 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 aspetta sei fermo non c'è un checkpoint di nuovo hehehehe ok levati 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 ok levati levati ok non c'è un checkpoint non c'è un checkpoint hehehehe hehehehe questa parte tutta velocizzata a manetta ma veramente me no cose was titolo titolo mod piccola in canada Gonzaga c JENK vado evarly ice pour efter sb ad casca sabbia casca tutto il corso e mangiare per voi vieni avviati di là dai l'ultimo vai vedi se ce la fai ok l'ultimo lo voglio fare io voglio fare la strada per l'avventura c'era quello che mi ha bloccato ma veramente quante che ha fatto il giorno e notte il giorno e notte cop don't ask bad party lacrima tua leva mia ok ali teleportaci avete la leva aspetta un secondo segreto che mi senti inizia del mondo città ma quando andiamo a noi da lei ok mamma mia danni ok mamma mia danni che scanto cosa è il fatto che il peccato è che hai buttato fuori me m vabbè te le trasportateci da me chiede qui c'è tanto da leggere non è capace non lo vuol dire levati visto c'era 8 versione 1 punto 2 c'erano delle scuole non è un'altra scuole finita finita vera finita vuole la 1.2 e finita e noi intanto andiamo a esplorare questo quello a fare io ho fatto quello a ecco perché c'è dato la scuole per salire intanto lì come io ho lì afte come vuole vabbè l'abbiamo fatto vabbè l'abbiamo fatto vabbè l'abbiamo fatto vabbè l'abbiamo fatto aspetta controlliamo sotto i fondi sono chiusi sono chiusi sono chiusi attenzione segnali vado faccio sponare un pulcino è sponato non devi scavare devi rimettere la scuola vabbè tanto che scemo rimetti quei blocchi intanto la possiamo rompere scemo no no io mi sa che non è finita aspettate un secondo eccoci vediamo che cosa c'è qua sotto mi devo buttare buttati mi buttati tanto rumore ok siamo in trappola c'è solo una stiglia però scommetto che rompendo questa lana esce l'acqua no no vabbè abbiamo finito finalmente questa mappa diteci se volete che quando uscirà la 1.2 continuarla questa mappa certamente non sappiamo vedremo il video per vedere che oggetti avevamo e ce li daremo con la game mode perchè noi vogliamo fare altre cose altre mappe mentre noi le testiamo le mappe prima ma non le finiamo le facciamo tipo le osserviamo 5 minuti di mappa e poi ciao e poi decidiamo se farci un video questa comunque scrivetecci nei commenti se volete che facciamo quando ci sarà l'update la 1.2 mettete un bel mi piace se volete che bruci vivo danni mettete tanti tanti ma tanti mi piace ma tanti ma tanti tanti aspetta 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 ok scava scava vedi se ceci a trovarmi con questo è tutto ci vediamo alla prossima ciao ragazzi compari salutate ciao ciao ciao